bella a tutti i quadri a nicolas a giano nicolas staccato a giano nicolas staccato a giano siamo qui in questo video dove vi mostrerò un mio telefonino il mio primo telefono a sei anni ora un s7 e vedremo un po allora qui abbiamo questo telefonino piccolissimo anche rosa raga che vediamo meglio telefonino apri e chiudi dietro c'è una delle camere che possono dare i tasti e questo che si vede che femminile chiudiamo vediamo cosa c'è il contenuto dentro un attimito ecco qui c'è una scocca un po spocchetta l'ho avuto da cinque anni il suo telefono stato il mio primo telefono c'è la batteria batteria bella e invece c'è una cosa per mettere la scheda sim e micro sim e tutto la memoria e tutto un attimo raga bello raga è stato veramente un telefono prezioso per me qui è la telecamera un po rottetta questo è durato due mesi poi non so ora se è rotto se non si è rotto però vado a scendere la mano scendere vorrei portarlo è femminile come possiamo vedere l'ho già detto nel video e arriviamo a 3 mi piace iscrivetevi al canale e vi faccio vedere ora le mie carte calciatori panini adrenalin ok raga andiamo a vedere che figurine tengo qui abbiamo lui giuseppe portiere del napoli che abbiamo il cuca milan centrocampista abbiamo sempre portiere dell'empoli se non sbaglio alberto bel belagotti qua invece portiere sempre questo del crotone se non sbaglio marco festa invece del torino centrocampista giuseppe vives invece porti questo leonardo pavoletti pavoletti qui andar 21 portiere difesa andrea con conti invece centrocampista idolo lazio senad luilic qua invece sempre difensore andrea respoli invece centrocampista della lazio sempre marco parola qui invece centrocampista del so che squadra cagliari del cagliari artur igneti poi abbiamo difensore john jesus della roma qui del so che squadra difensore alessandro gambarini invece non so che squadra è sempre federico peluso e qui invece gabbiele angela difensore sempre questo portiere del genova se non sbaglio si mattia per in sempre portiere non so di che squadra al santo santo e christian pugioni invece questo portierone portiere san mirandovic dell'inter ok ragazzi spero che vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e ricordate il mio nome è nicola staccato a giano staccato nicola staccato a giano iscrivetevi subito al canale per favore lasciate un bel mi piace per supportare il video e finisce qui